A meno di colpi a sorpresa dovrebbero essere 5 i candidati a sindaco nella città di Sant'Alfonso. Due sono già ufficiali. Enza Fezza per una parte del centro-destra e Aldo Cascone per una parte del centro-sinistra. Nelle prossime ore potrebbero uscire allo scoperto anche gli altri. Lega, Forza Italia, Udc e Civici potrebbero convergere su Lello De Prisco, candidato con uno schieramento civico un anno fa e che ha abbandonato qualche giorno fa la federazione con gli altri ex candidati della precedente tornata elettorale avvicinandosi alle posizioni della coalizione di centro-destra orfana di Fratelli Italia. Potrebbe essere proprio De Prisco che dalla sua avrebbe anche il movimento Viviamo Pagani il candidato per questo raggruppamento. Intesa quasi raggiunta sulla candidatura di Santino Desiderio anche per l'aggregazione civica della quale fa parte l'ex sindaco Salvatore Bottone che si avvarrà del sostegno dei fuoriusciti del PD che hanno seguito l'ex coordinatore Davide Nitto e di Antonio Donato e Rita Greco. C'è infine il raggruppamento che fa capo all'ex facente funzioni Anna Rosa Sestia e Emilio Bonaduce intenzionati a dimostrare la loro forza elettorale spalleggiati dai vertici delle società partecipate del comune dalle quali potrebbe uscire il nome del candidato sindaco. Il simbolo del Partito Democratico sarà al fianco del candidato Aldo Cascone con la probabile dicitura PD per Pagani. Dalla sua avrà anche il sostegno di altre tre liste Aldo Cascone sindaco, rinascita e insieme per Pagani. Quattro le liste che sosterranno anche la candidata Enza Fezza, quella di Fratelli d'Italia, di Forza Pagani coordinata da Nicola Campitiello, direzione Pagani di Alberico Gambino e alleanza per Pagani di Massimo Donofrio. Proprio quest'ultimo ha in una nota stampa stamane spiegato le motivazioni che lo vedono per la prima volta in 30 anni candidato con una lista civica e non in un partito nel suo partito tradizionale. Una scelta convinta e condivisa con tante amiche e amici con i quali abbiamo costruito, si legge nella nota, questo nuovo movimento politico cittadino che rappresenterà una forza impegnata sul territorio per la crescita economica e sociale. La mia scelta è stata dettata, dice Donofrio, anche dalla richiesta di molti amici di volersi impegnare per la città senza una media partitica. Ho chiesto fortemente alla discesa in campo dei cittadini di varie estrazioni politiche perché oggi la città viene prima dell'appartenenza politica. Ringrazio tutti i candidati della nostra lista che hanno dato la loro disponibilità. Naturalmente saremo a sostegno di Enza Fezza. Oggi non si può guardare ai simboli ma alla qualità delle persone. Per far crescere i nostri territori occorre lavorare in sinergia con tutte le istituzioni sapendo di dialogare e confrontarsi senza steccati ideologici. Ha concluso Donofrio.